11 anni fa, l'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle all'America ad un modo di vivere e di pensare. Da allora un solo pensiero, niente è stato più come prima, quel pomeriggio ha cambiato la percezione del terrorismo nel mondo. Quel giorno persero la vita 2.983 persone e oggi, a distanza di 11 anni, gli americani e il mondo ricordano le vittime del più grande attentato mai compiuto negli Stati Uniti. Non è solo l'America dunque a piangere quelle vittime e le tante che si sono susseguite dopo. In molti ricordano cosa stavano facendo nel momento esatto in cui il primo aereo si è schiantato sulla prima torre. I stanti rimassi impressi nella memoria e nel cuore di tutti. Mi ricordo quell'attentato come non l'abbiamo vissuto in una maniera veramente partecipata, perché ci siamo resi conto di quella tragedia. Abbiamo tanto pregato, proprio perché non succedono più di questi fatti così gravi, che lasciano la gente veramente costernata. Stavo preparando un po' da mangiare in casa e siamo rimasti male, veramente. È stato un dolore grande per tutti quel giorno. E no, veramente quel giorno guardavo la televisione, quando ho visto sta aereo stesso che incontro queste torre qua. Come ogni anno da quel giorno, una cerimonia ha commemorato le vittime i cui nomi sono stati letti a voce 1 a 1 a Grand Zero. E poi un minuto di silenzio nel momento in cui i quattro aerei precipitarono e altri due minuti di silenzio osservati nel momento in cui i due grattacieli crollarono. Una cerimonia senza fassi e in tono minore rispetto agli anni precedenti. Una commemorazione necessaria perché non bisogna dimenticare gli innocenti e gli eroi, anche italiani, che persero la vita per salvarne altre a Grand Zero e in Afghanistan. Ogni anno lo ricordiamo sempre, specie le vittime. Sono cose che fanno atterrire l'animo delle persone. Sono cose brutte che non dovrebbero più accadere mai per nessuno. Ci siamo ricordati anche senza seguire stampe, televisioni, perché nel nostro cuore questo ricordo, così brutto, però da non dimenticare. Ed educare proprio i giovani a vivere questi momenti con partecipazione, in modo da anche nelle piccole cose, non queste tragedie, che possono essere dei testimoni, degli esempi per gli amici e per tutti.